Prorogata la zona rossa per la regione Campania. Le restrizioni più dure dovevano durare fino al 21 marzo, ma nell'ultimo fine settimana la cabina di regia ha deciso di continuare con la linea dura almeno per un'altra settimana. Alla vigilia della terza settimana in zona rossa le strade Eitor e il Greco risultano, per la prima volta, deserte. Se nei giorni scorsi in tanti denunciavano la presenza di troppe persone in strada e la totale assenza di controlli, oggi la situazione è del tutto cambiata. Nelle principali strade del centro le persone in giro sono poche e prevalentemente impegnate in spese e commissioni. Ridotto al minimo anche il traffico dei veicoli, anche nelle vie che più spesso, in genere, vengono congestionate dalle auto. Forse l'incremento di contagio del numero delle vittime ha sensibilizzato finalmente la cittadinanza torrese. Oppure la prolungata chiusura delle attività commerciali ha definitivamente tolto la voglia di percorrere le vie del centro, se non per necessità. In ogni caso, questa mattina, Torre del Greco si è svegliata, rassegnata e deserta.